Fin da ragazzo ero un avventuriero, mi piaceva viaggiare ma allo stesso tempo mi piaceva scrivere, poi è arrivato internet e ha cambiato il meccanismo, il sistema, i metodi di tutto questo in modo sotto alcuni punti di vista più vantaggiosi, in altri svantaggioso. Il web sicuramente è un mezzo utile, è utile per tanti motivi, quali per fare shopping a basso costo è utile per vendere il proprio usato, è utile per le proprie ricerche e lavore, quindi per darsi opportunità poi ovviamente queste opportunità che il web offre, alcune sono positive, altre negative sicuramente comunque da una scala da 1 a 100 io considero il web valido al 70%, facendo il giornalista sicuramente all'inizio con i miei due premi in letteratura e uno in poesia si trattava solo di scrivere, cosa che magari attualmente faccio come autore ma non è più tanto quello quanto la diffusione della comunicazione sul web che ha cambiato in effetti la mia vita in questo mio profilo lavoro, si apprendere delle tecniche nuove, comunicare in modo differente, parliamo della possibilità di comunicare con tutto il mondo in modo facile, veloce ed economico, questo secondo me è il punto principale, un altro punto invece che troviamo negativo di internet è il fattore truffa economico commerciale, nel senso che ogni giorno almeno io devo tutelarmi dalle potenziali truffe, ossia persone che cercano di inviarmi email convincendomi che mi regaleranno dei soldi, invece sono soldi frutto di evasione fiscale, sono soldi ricettati, rubati e così via, truffe, perché se vado a comprare un articolo su un sito non affidabile è comunque un punto negativo perché molte volte mi viene inviato un qualcosa che non è di mia richiesta o diverso da quello che io avevo specificato, addirittura non mi viene inviato nulla. Altro fattore negativo di internet mi ha portato a trovare la possibilità di lavorare anziché con i privati nel settore pubblico, inizialmente pensavo fosse un vantaggio, dopo ho scoperto invece che non tanto per colpa della burocrazia lenta della mia nazione, ma per colpa di alcune figure politiche quali sindaci che poi nella vita reale spesso sono altro che avvocati. C'è molto assenteismo perché sono imprenditori che hanno altre attività private e non possono dedicarsi al lavoratore, alla trattativa, al bene della società, al bene della comunità per i quali lavorano e sono pagati in modo aggiato. E questo è un fattore negativo perché internet mi ha distrutto la mia convinzione che il politico, l'avvocato, il sindaco erano le persone più oneste del mondo. Spesso rifiutano invece al contrario la possibilità di aiutare la società, rifiutano la possibilità di far risparmiare soldi al proprio comune, rifiutano la forza perché non hanno le capacità di valutazione e hanno fra l'altro un modo di dialogare pessimo. Spesso nella mia regione parlano il dialetto, spesso dicono no a te o a quell'altra persona o a quell'altro individuo o a quell'altro terzo, non posso comprare, non posso portare avanti il tuo progetto perché devo favoreggiare il mio amico che è un qualcosa di sbagliato e poco professionale. Internet mi ha fatto notare che non è vero quindi che il politico è la figura più per bene, che parla bene, che aiuta la società, ma il politico è chi vede il proprio comodo, tranne per le poche funzioni basilari indispensabili per il comune, spesso perché mosso dal poco tempo che ha dovendo valutare la sua attività commerciale e imprenditoriale, si purtroppo sviluppano un ruolo privato a favore di loro stessi e poi si rapportano col pubblico in un modo poco professionale e poco adeguato. Non fossi mai andato su internet a trovarmi un annuncio di lavoro con facilità di possibilità di trattativa commerciale con il settore pubblico e le istituzioni pubbliche, non avrei scoperto sicuramente che il sindaco o il vice sindaco in realtà sono delle figure che si appropriano dei meriti altrui, che siano interni al comune o esterni al comune, che spesso rifiutano di fare il bene del comune e della società, anche se probabilmente non se ne rendono conto, chiaramente perché hanno la difficoltà nel loro ingresso alla burocrazia che si ritrovano davanti. Il giornalismo denuncia nello specifico tutti questi fatti della possibilità di guardare bene con occhio giudice perché il sindaco in realtà non è una figura poi tanto per bene, il giornalismo e la comunicazione denunciano il criminale che compie un reato in un modo di diffusione più vasto rispetto a quello che era prima dell'esistenza del web, perché se un omicidio prima lo si vedeva solo per dire in televisione, ad oggi invece lo si vede anche su 10, 15, 20, 30 siti e testate giornalistiche importanti e meno che ne spangono la notizia come quando un grosso brand compie illeciti e ne è nella bufera. Il web invece ci aiuta a notare che se io vado o altre 10 persone vanno a fare la denuncia in una caserma per 50 euro, 70 euro. Nessuno ci prende in considerazione anche perché la legge dice non ti conviene fare la causa perché hai delle spese di tribunale che una volta non c'era. Ecco, internet ha cambiato la mia vita in che modo? Mi dà la possibilità di studiare la legge che io ho studiato già per tre anni a scuola in modo più vasto in tanti settori, enormi dettagli specifici che mi fa notare allo stesso tempo che non è spesso giusto quello che appare o quello che è la carica apparente di una persona, ma che è giusto quello che in realtà c'è dietro tutto. E questo sicuramente per me è un fattore straordinariamente positivo che il web ha donato, ossia la cultura e la comunicazione che le ha diffusi in modo magnifico. L'unico fattore negativo forse del web è che non ha un'efficienza continuativa ovunque, nel senso che la fibrottica non c'è dappertutto, nel senso che in alcuni punti internet viaggia in modo molto lento. Sicuramente internet non aiuta molto a caricare video di qualità. A casa mia dove ho 5-6 megabyte di internet mi conviene di più per caricare sul web dei video, lasciando stare magari la riproduzione su DVD o su Blu-ray, mi conviene assolutamente magari andare in un altro luogo a pagamento dove posso caricare dei video su alcuni siti per motivi di lavoro e in modo più rapido, perché il mio download e il mio upload è lento. Credo che comunque ognuno abbia le proprie motivazioni e le proprie esperienze che ci portano a poter esprimere un giudizio. Ciao! Grazie a tutti!